Azione è il polo centrale della politica teramana. Lo ha detto il neoconsigliere regionale del partito di Calenda, Egno Pavone, che in una conferenza stampa, dove ha radunato tutto il quartier generale di Azione, ha ringraziato gli elettori, ha ribadito la collocazione in opposizione in Consiglio regionale e ha annunciato l'ingresso di Libera D'Amelio in provincia al suo posto. Questo mi sembra evidente. Oggi Azione in provincia di Teramo ha un ruolo decisivo nel panorama politico provinciale. Lo ha perché ha l'unico parlamentare della provincia di Teramo. Lo ha perché è decisiva nella maggioranza che regge il Consiglio provinciale, la presidenza di Camillo D'Angelo, almeno dal punto di vista politico. Lo ha perché governa la città più grande della provincia di Teramo, dopo Teramo capoluogo, e lo ha anche perché ha un consigliere regionale. Lei ha detto anche che Azione non avrà mai una posizione ideologica, ma sarà sempre legata ai progetti e ai programmi. Lei è stato eletto in regione nel centro-sinistra, pur non essendo organico al centro-sinistra, alla luce di questa vostra posizione parte dall'opposizione. Sì, evidentemente. Noi costitueremo il gruppo di azione in regione Abruzzo e sarà l'opposizione del presidente Marsiglio. E poi il proseguo dell'attività amministrativa è quello che abbiamo detto. Noi azione o aderito ad azione, essendo l'unica tessera oltre a quella del Partito Socialista, perché rivedo molte delle posizioni che aveva il Partito Socialista di Craxi, lo rivedo in azione di calenda. In chiave eronica ha anche sottolineato un altro aspetto che la riguarda. Ha detto io mi chiamo Pavone e come ogni Pavone mi pavoneggio, dunque ricordando che lei è capogruppo in comune a Roseto, in provincia e anche in regione. Sì, questa è una piccola soddisfazione personale che mi sono permesso di dire. Forse sarò probabilmente uno dei pochi in Italia, se non l'unico in questo momento, che riveste contestualmente i tre ruoli di capogruppo in consiglio comunale, provinciale e regionale. Una bella soddisfazione dopo tanti anni di lavoro, di sacrificio, di passione e di dedizione ai cittadini, alla comunità e di impegno politico che inizia nel 1985 con la prima candidatura al Consiglio Comunale di Roseto.